L'accordo con l'autodromo di Imola, proprio perché vuole creare un centro di eccellenza nella formazione di guida sicura, sposa il nostro obiettivo che è quello di promuovere sempre di più la sicurezza stradale e noi lo facciamo attraverso la nostra scuola superiore di sicurezza stradale, dove il superiore sta ad indicare non soltanto il rapporto tra l'uomo lo strumento, quindi il mezzo, il veicolo e l'infrastruttura, ma anche sfruttare tutto il know-how che ci deriva dalla casa madre attraverso gli studi che in Germania conduciamo sulla sicurezza stradale, per poi fare in modo che i nostri corsi possano trasferire all'utente finale delle nozioni fondamentali nell'approccio alla guida di un veicolo, che possa essere la moto, l'auto o il veicolo pesante. Visto il recente accordo con l'autodromo abbiamo pensato di promuovere proprio qui ad EICMA un'iniziativa per gli appassionati delle due ruote. Proponiamo loro un questionario che si compone di due parti, una parte sulla sicurezza e un'altra invece sulla parte sportiva. Tra coloro che risponderanno esattamente alle domande del nostro questionario, a fine EICMA controlleremo i risultati e estrarremo i vincitori. A tutti i partecipanti a questo questionario omaggiamo un gadget d'Ecra che va dal cappellino al collarino, i soliti gadget che vengono sempre richiesti da tutti. Ai vincitori invece regaliamo un biglietto omaggio per poter partecipare alla tappa di Imola della Superbike 2013 che si terrà nel primo semestre del 2013. Grazie. Grazie a tutti.